Noi vogliamo una città modello svizzero, pulita, ordinata e tolleranza zero. E' il modello svizzero, quello invocato dal primo cittadino di Giulianova, Ivan Costantini. Ma il sindaco non fa riferimento al segreto bancario, né alla legge contro l'omofobia recentemente varata dallo Stato Centro Europeo, ma alla lotta contro il degrado. Giulianova infatti sarà il secondo comune in Abruzzo ad inserire il daspo urbano nel regolamento cittadino. Il primo è stato l'Aquila, dove finora è stato applicato un'unica volta a discapito di un parcheggiatore abusivo. Il daspo urbano nasce nel 1989 per colpire gli ultras, tant'è che è l'acronimo di divieto d'accesso alle manifestazioni sportive. Dopo la sperimentazione negli stadi, nel 2017 il daspo è stato esteso al resto della società col decreto Minniti e poi reso più severo lo scorso anno con il decreto sicurezza, che ne ha esteso i campi di applicazione. Il daspo urbano è una misura preventiva volta a interdire ad alcuni individui determinate aree della città, nei pressi di infrastrutture o considerate di particolare pregio turistico. Può essere applicato sostanzialmente a chiunque. L'articolo 9 del decreto Minniti specificava che è rivolto a chiunque bivacchi, seppur non sia specificato cosa effettivamente sia il bivacco. Finora in Italia è stato applicato contro senza tetto, prostitute, studenti, presunti spacciatori e contestatori politici, per un litigio, per aver dormito in strada, per essersi ubriacati o per aver manifestato. Il daspo urbano serve per combattere delle situazioni di degrado urbano, come possono essere i bivacchi, persone che entrano dentro i parchi. Addirittura la prima volta che uno viene preso a commettere quegli atti che vengono riportati all'interno del regolamento, mi viene in mente lo stato di ubriachezza, mi viene in mente il bivacco, viene punito con una sanzione di 100 euro e l'allontanamento per 48 ore. La misura è applicata da comune e prefetto e ha una durata di 48 ore. Se violata il questore può decidere di estenderla fino a 12 mesi. Insomma non deve essere emanata da un giudice e non occorre alcun reato. Per questo aveva già tirato le perplessità della Corte Costituzionale. Se la sicurezza urbana è messa in pericolo da comportamenti che non devono preludere alla commissione di un reato, si legge su diritto.it, sembra che questa misura riporti nel sistema della prevenzione quel significato di pene del sospetto che la Corte Costituzionale aveva inteso immediatamente scongiurare. Il sindaco ha dichiarato che al momento gli è stato consigliato di non dire a quali zone della città sarà riferito, ma ha specificato che sarà applicato anche nei pressi delle scuole e forse anche all'ospedale. Se così fosse potrebbe violare il diritto alla salute ostacolando l'assistenza sanitaria. Questa misura, insieme alle ulteriori telecamere, promesse dal sindaco, intende garantire l'ordine pubblico e assicurare un controllo del territorio più invadente di quello già messo in pratica. Molti giuliesi sembrerebbero non gradire la svolta securitaria dell'amministrazione. In città è scoppiata una fantomatica guerra degli striscioni che tramite sfottò ha tentato di delegittimare Costantini. Le contestazioni arrivano in primis dal tifo organizzato del Giulianova e dai ragazzi e le ragazze del campetto occupato, uno spazio per anni in stato di abbandono e che è stato rianimato dai giovani della città, che lo hanno anche ricostruito dopo che questo era stato dato alle fiamme nel cuore della notte e che presto potrebbe essere sgomberato. Dopo una serie di assemblee pubbliche che hanno visto la partecipazione di persone di tutte le età, è stata chiamata per sabato pomeriggio una grande manifestazione cittadina unitaria. Questo potrebbe essere già un autogol di Costantini, che è così riuscito a compattare realtà a volte molto lontane, accomunate dal dissenso contro l'amministrazione.